al dj serve la console? la domanda può sembrare banale la risposta anche piuttosto scema ma in realtà non è così e infatti ne parliamo per bene in questo video ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato al dj serve la console teoricamente anche no un dj che gira molto nei locali ci dovrebbe essere e i locali dovrebbero essere piuttosto ben forniti in questo per quanto riguarda l'attrezzatura se vai su un evento c'è il service e anzi se vogliamo potresti anche scegliere tra più opzioni la realtà dei fatti purtroppo però è molto diversa con l'aumentare della tecnologia e soprattutto aumentare le opzioni a disposizione per il tipo di attrezzatura da dj è diventato sempre più difficile per un locale dotarsi di qualcosa che può andar bene più o meno a tutti e soprattutto visto che si sono frammentati le tipologie di locali quindi non necessariamente la grande discoteca soltanto ha bisogno di un dj ecco che diventa veramente difficile per un piccolo locale che magari può fare musica di un certo tipo dotarsi di 5000 euro di console e di conseguenza è molto probabile che debba essere il dj a portarsela e poi questo dovuto al fatto che ognuno usa cose anche molto diverse tra loro chi usa il computer con il controller chi usa il computer con il sistema scratch quindi mettendo un cd un file dentro il lettore che gli permette di leggere file dal computer chi usa la console compatta chi usa la console intera insomma diventa veramente ampio il range di possibilità i locali hanno smesso di comprare sempre le nuove console e poi non nascondiamocelo c'è anche chi se ne approfitta del fatto che non ci sia la console tanto il dj usa la propria se la porta e così il risparmio diventa sempre più indispensabile avere la propria console a meno che non si diventi un nome certo quando sei un nome da cartellone puoi anche avere delle pretese però prima di diventarlo molto probabilmente c'è bisogno di tempo c'è bisogno di di aumentare il proprio livello di essere piuttosto richiesto prima di avere delle pretese in molti si sentono dei fenomeni perché hanno fatto tre serate qua e là e hanno le richieste come se fossero un nome da grande festival anche per questo se vogliamo i locali e gli organizzatori d'eventi hanno smesso di assecondare le esigenze di chi fa la musica in un locale ma lasciamo stare questi personaggi discutibili è necessario avere una propria console in fase iniziale assolutamente sì la console serve per allenarsi e per preparare i propri set per scegliere la musica non è così necessario puoi utilizzare il computer mettere file sul computer e anche provare ad assemblarli insieme però soprattutto all'inizio della carriera da dj è opportuno che ognuno si faccia le ossa e se le faccia a casa propria o ne in uno studio se lo ha a disposizione da quale console partire questo è tutto un altro argomento ne parleremo molto volentieri però in sostanza qualcosa è bene avere ed è bene avere anche qualcosa di piuttosto modelli base per poi sviluppare quella che la propria manualità andando poi ad utilizzare tecnologie migliori traendone tutti i vari vantaggi questo è utile perché comunque serve per migliorare e farsi la propria tecnica però ecco qualcosa è opportuno averlo e in base al tipo di serate che si fa è opportuno anche valutare la praticità nella console e anche la comodità è molto bello avere i cdj 2000 e il mixer 4 6 canali però portarlo a giro anche con il fly case diventa veramente pesante impegnativo quindi se devi muoverti spesso se se vai in locali piccoli se fai eventi in giro quella l'aspetto del peso e della comodità è da non trascurare assolutamente e poi mettiamoci anche il fatto che quando vai a suonare nei posti magari sei in tre o quattro dj ognuno con il proprio computer la propria postazione il proprio controllo eccetera c'è anche una questione di spazio da non sottovalutare è brutto lo sappiamo quando vediamo dieci persone lì che aggeggiano ai cavi magari mentre la serata è in corso quindi sarebbe bene organizzarsi per tempo e purtroppo in un periodo storico in cui viviamo adesso in cui tutti tutti fanno fatica a far tornare i conti bisogna in qualche modo essere autosufficienti e non pretendere troppo da chi ci ospita e da chi ci fa suonare e anche riuscire a poter portare avanti la propria musica in postazioni diverse è senza dubbio una qualità da perseguire per concludere prepararsi con il proprio setup farsi le ossa essere molto preparati sia sulla musica che sul modo di metterla per poi essere in grado di poter suonare dappertutto in qualsiasi tipo di console questo è secondo me la risposta alla domanda poi ci possono essere dei periodi in cui non si ha la propria console ci possono essere dei periodi in cui si è resident in un locale nel quale c'è tutto ciò che ci serve e queste sono comunque le fasi nella propria vita ci sono anche periodi in cui hai la tua console e la tieni in casa soltanto per il gusto personale però in generale riuscire ad essere versatile e capace di suonare con qualsiasi tipo di lettore o di controller è senza dubbio una qualità da perseguire fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi